Tra i numeri inquietanti c'è quello relativo alle terapie intensive. In Molise quasi un letto su due è occupato da pazienti covid e la regione si piazza al secondo posto. Davanti ci sono solo le marche nella classifica relativa all'ospedalizzazione di pazienti affetti dal virus. I dati dell'Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, riferiscono di una percentuale del 44%. Le marche sono al 55% mentre la media nazionale è del 25%. La soia d'allerta fissata dal Ministero è del 30% del totale dei posti disponibili di terapia intensiva. Dunque il Molise è molto al di sopra del limite massimo e infatti in piena emergenza con i reparti a rischio implosione. Anche i dati relativi alle ere mediche, i posti di malattia infettiva per intenderci, non sono buoni, il limite è il 40% del totale dei posti disponibili, il Molise al 43% fanno peggio solo Marche e Umbria. In questo contesto sono fondamentali i moduli esterni agli ospedali, i lavori accanto al Cardarelli sono in via di conclusione, bisognerà invece aspettare metà mese per Isernia e Termoli.